50 anni di attività, un emittente che ha contribuito a cambiare la storia della televisione privata in Italia, in un'epoca dove vigeva il monopolio della tv di Stato, e che ha raccontato e racconta Bari ed il suo territorio, e non solo, in ogni sfaccettatura. Tele Bari festeggia il Teatro Piccini di Bari, omaggiata da autorità politiche, istituzioni, e da chi in passato ha contribuito a farla crescere e conoscere. Una storia italiana partita dal lontano 1973, grazie alla volontà della famiglia Mazzitelli. 50 anni di storia, iniziati con mio nonno, proseguiti con mio padre, ed era con me, con un gruppo fantastico di colleghi, perché oggi questa azienda va avanti grazie al lavoro di ogni singolo collega, e anche delle aziende che credono in noi, perché per noi è importante servire il territorio. Da parte dell'intera famiglia di Antenna Sud, ancora una volta i più sinceri e sentiti auguri. Noi in Corte Costituzionale, insieme a Tele Biella, abbiamo aperto la strada al nuovo modo di comunicazione, a una nuova era di comunicazione in Italia. Siamo qui da 50 anni, abbiamo fatto palestra, siamo stati una palestra per tanti giornalisti, a servizio della gente, perché la nostra scelta, la nostra mission è quella di informare la gente, ma di essere a fianco della gente e di essere una struttura a servizio della gente.